e ti saluto con la pace del signore e ti auguro una bellissima giornata anche oggi martedì 10 gennaio 2022 gloria al signore prima di ascoltare la parola di dio questa mattina voglio dare gloria a dio per un pensiero che mi è stato donato da parte di una coppia di una parte di una famiglia che mi hanno ospitato in questi giorni mentre che ero lì su in veneto e mi hanno lasciato un pensiero un ricordo che è bellissimo è un quadretto ma è un quadretto fatto proprio a mano non è il punto croce ma è mezzo punto ecco io non ne capisco so solo che a guardarlo ci sarà stato un bel lavoro ma la cosa più bella è il pensiero gloria a dio sono stato contento di averlo ricevuto ma il versetto che viene scritto in questa in questo quadretto è meraviglioso ed è una promessa non so se tu riesci a leggerlo ma dice così credi nel signore gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia proprio come scritto negli atti degli apostoli capitolo 16 il versetto 31 questo non era il messaggio di oggi ma ci tenevo a farlo perché sono stato contento di questo pensiero e voglio dare gloria a dio perché la fratellanza è bella anche per questo gloria a dio se ci ama se ci vuole bene se ci sta vicino si ci incoraggia per me questo è stato un grande incoraggiamento gloria a dio ora vogliamo ascoltare la parola del signore che questa mattina dice proprio così nel giorno della mia afflizione ho cercato il signore l'anima mia ha rifiutato di essere consolata salmo 77 il versetto 2 ed ancora il signore è buono con quelli che sperano in lui con chi lo cerca libro delle lamentazioni capitolo 3 versetto 25 il titolo di questa meditazione biblica è una domanda abbandonato antonio è lì in piedi di fronte al cappellano della prigione con una lettera in mano silvano volevo vederti un'ultima volta cosa c'è che non va sei ammalato vedo il cielo attraverso le sbarre da otto anni fino ad ora ho resistito mia moglie mi ha pensato mi ha scritto mi ha aspettato questa è la sua ultima lettera però ora mi ha abbandonato la mia vita non ha più senso silvano conosce quell'uomo no non recita la commedia del suicidio per ottenere un miglioramento della sua sorte antonio la tua situazione mi tocca profondamente pensi di essere abbandonato da tutti no dio non può abbandonarti sei una sua creatura ti ama così come sei ti sta cercando vuole incontrarti sono certo che è giunto per te il momento di rivolgerti a lui pregherò per te ma ascoltami leggi questo vangelo due giorni dopo una domenica mattina antonio è lì nella cappella dove silvano predica il vangelo il suo viso irradioso dio è venuto a incontrare antonio il disperato nella solitudine della sua cella gli ha dato molto di più della libertà sperata la pace divina nel suo cuore alleluia gloria a dio che meravigliosa testimonianza questa pace che ha trovato antonio questa libertà che ha trovato antonio anche all'interno della sua cella è una pace che solo dio può dare ed è la stessa pace che dio può dare anche al tuo cuore forse non sei in prigione forse non sei in una condizione disperata ma il tuo cuore desidera incontrare dio quindi cerca il signore è giunto il momento che tu ti rivolga al creatore perché lui lui ti ama e sa come risponderti dio ti benedica immensamente e che dio ti riempia della sua presenza e della sua pace io ti saluto ti auguro una buona giornata e ci vediamo presto al solito appuntamento con il calendario cristiano il buon seme pace del signore a te